Registrazione video con Motorola Moto X 2014, quindi la seconda generazione fotocamera da 13 megapixel con doppio flash led, facciamo uno zoom 4x massimo, ovviamente digitale passiamo da una zona poco illuminata ad una più illuminata macro chiamiamo in panoramica un po' lento a rimettere a fuoco per tutandroid.net Motorola Moto X 2014